eccomi buonasera anche lady ghost e lady sadako salute come utilizzare la bacchetta per tenere ferma la coda meglio che la levo che sembra un po totonna stasera voglio fare un altro chuxi evoca anche se con i chuxi evoca mi do sempre un po la zappa sui piedi da sola perché non li guardano mai in tantissimi e invece secondo me alcune serie alcuni film alcuni programmi molto selezionati ma molto tanto aiutano a comprendere meglio certe cose se fossero guardati ancora di più comunque io ho la playlist dei chuxi evoca e ogni tanto ne parlo questo in particolare l'ho visto oggi tutt'oggi perché perché è una mini serie di 30 puntate e io mi sono guardata 30 puntate oggi ma sono puntate di 5 minuti sì e no anche meno l'una in effetti lo sbattone più grosso era ogni 5 minuti cambiare la puntata e ciucciarmi anche la pubblicità che purtroppo o per fortuna anche per chi mette i video giustamente è più fortuna c'è altro che petardi stasera c'ho anche il caccotto non l'ho stirati perché l'ho lasciati come dico sempre l'ho incrociato per caso e come dicevo è una serie al momento con i sottotitoli disponibili per poterli mettere in italiano l'ho trovato solo su youtube in altri siti c'è ma è tutto completamente in cinese perché è un altro drama un'altra serie mini serie proprio mini cinese si intitola demon emperors little matchmaker l'imperatore demone e la piccola sansale sensale sensale ho sbagliato la pronuncia e che è un termine che non uso molto e che alla fine significa semplicemente mediatore ma cos'è nella cultura asiatica il sensale o sensale non mi ricordo mai doveva l'accento è un mediatore che aiuta qualcuno a trovare la giusta persona da sposare ciù ciù così si chiama la piccola sensale è una fata del mondo del cielo e segue come allieva il dio delle coppie il dio dell'amore uno degli immortali del cielo ma partiamo dall'inizio all'inizio la serie comincia con una donna una principessa che sta partorendo vicino a lei c'è il marito che la sta aiutando con tutta la sua energia spirituale la invia verso la moglie mentre la moglie soffre e partorisce il bambino nasce il tempo di prenderlo in braccio e si capisce l'inizio della storia lei è una principessa una principessa sorella dell'imperatore mortale umana il marito è un demone è l'imperatore del regno demoniaco a me questi drama piacciono tantissimo perché non fanno quel gran casino che fa la cultura europea additando i demoni come malvagi cattivi brutti questo è uno stragnocco da paura l'imperatore bello come pochi anche lei è molto bella lei è umana e innamoratissimo della sua moglie umana ma di come un accordo con la moglie decide di infondere tutta la sua energia demoniaco spirituale al bambino per fare in modo che riesca a nascere perché perché la moglie umana non potrebbe riuscire a partorire e a far arrivare al parto un figlio mezzo demone ma lei a tutti i costi vuole che suo figlio nasca e il marito d'accordo con lei esaurisce tutta la sua forza spirituale proprio per far sopravvivere il bambino il tempo di dargli il nome che sceglie la la principessa chiamandolo Wu Yu e poi lei muore due o tre minuti dalla morte della principessa anche l'imperatore demone si dissolve nell'aria la storia della principessa umana e dell'imperatore demone finisce qui con loro due entrambi morti che sperano di ritrovarsi nell'aldilà e questo bambino appena nato la didascalia recita vent'anni dopo vent'anni dopo in giro per la contea terrena terrestre ci sono dei bandi che riportano che l'imperatore terrestre l'imperatore della contea della terra sta cercando una moglie per suo nipote Wu Yu all'inizio fanno entrare nella nella stanza a conoscere il principe nipote dell'imperatore diverse figlie di aristocratici e di persone della corte ma tutte quante gridano svengono si spaventano urlano impazziscono vengono portate via a una a uno dai le due guardie personali del principe Wu Yu e dalla sua guardia del corpo che è una ragazza in arme allora l'imperatrice la moglie dell'imperatore quindi zia acquisita di Wu Yu dice all'imperatore che bisogna adattarsi nel caso andare a cercare una moglie adatta per Wu Yu tra il popolo visto che le donne di corte le figlie le ragazze in età da marito di corte non riescono a reggere il suo aspetto e svengono si spaventano impazziscono tutte quante l'imperatore allora visto che aveva promesso alla sorella che se le fosse successo qualcosa lui avrebbe portato Wu fino a tutto il suo percorso infantile e poi adolescenziale fino al matrimonio si convince che tutto sommato dato che comunque il nipote è un mezzo demone se deve anche un po' contentare e quindi proviamo anche con le ragazze del popolo si presenta Ciu Ciu poco prima una scena vede Ciu Ciu in cielo nel regno del cielo che parla con l'imperatore dei cieli e dio dell'amore dell'unione di coppia che è il suo capo il suo capo è disperato perché non sa come fare per accoppiare appunto Wu il mezzo demone con una qualche moglie perché il suo compito celeste è quello di creare le coppie ma a quanto pare nessuna donna sulla terra lo vuole e in un attimo di sconforto è un signor anziano pelato con il barbone lungo racconta a Ciu Ciu alla sua adepta che le preoccupazioni portate proprio dal caso di quando Wu sarebbe diventato in età la moglie gli avevano persino fatto perdere i capelli aveva il terrore di perdere anche la barba che avrebbe fatto qualsiasi cosa per avere un aiuto a trovare una moglie a Wu anche onorare l'aiutante facendolo diventare il primo sensale del corpo celeste Wu nel frattempo sta continuando a vedere cortigiane e donne della corte ma queste continuano a sentirsi male a spaventarsi a gridare a scappare la scena ritorna su Ciu Ciu che allettata dal fatto di poter diventare la prima sensale sotto al grande dio dell'amore si propone di andare lei a risolvere la situazione il dio subito non vuole perché lei è molto esuberante ma lei tanto fa e tanto dice che il dio alla fine gli dice ti mando ma a due condizioni una prima non ti devi innamorare di Wu e lei gli dice ma figuriamoci io sono una fata del cielo mi vado a innamorare di un mezzo umano e un mezzo demone non ci pensare neanche io voglio il posto di vice sensale ufficiale e lui gli dice va bene secondo non puoi in nessun modo usare la magia se usi la magia sulla terra qualsiasi risultato tu ottieni io non lo considererò valido lei promette e tutta speranzosa va sulla terra arriva sulla terra e vede questi manifesti in giro per la città scusate dove appunto si chiede se qualche donna vuole partecipare alle selezioni per diventare la moglie del principe Wu ma la fama di questo principe che terrorizza persino le donne di corte è arrivata anche al popolo e nessuna vuole presentarsi chiu chiu allora coglie quell'occasione dato che vuole parlare con Wu per cercare di capire che tipo di persona sia e trovare gli quindi la moglie adatta e si presenta lei alle selezioni si presenta lei e siccome si presenta solo lei non c'è nessun altro viene presa a prescindere e la mandano nella stanza del mezzo demone di Wu lei è lì con una sorta di velo nuziale in testa però non c'è stato un matrimonio vero e Wu arriva e ha una mezza maschera dorata su un lato e la guarda e lei lo guarda attraverso il fazzoletto ma Wu le dice non ci siamo nemmeno sposati per davvero leva con l'affare dalla testa che non serve a niente soltanto una cavolata e lei gli risponde in effetti lo pensavo anch'io ma tanto per fascina l'ho messo e se lo toglie mentre se lo sta togliendo lui la guarda un attimo così dice pure questa è normale perché non pensava ci andasse ancora qualche donna normale pensava a qualche scherzo dalla natura o cose di quel genere a quel punto e invece la vede è carina ha un bel sorriso e poi sorride di continuo e gli dice ma perché porti la maschera sei così brutto e lui gli dice ma non ti spavento no oddio non ti vedo bene sotto la maschera ma mi sembri quasi normale a vederti così guarda i miei occhi e mentre glieli fa vedere diventano rossi fiamma lei lo guarda un attimo poi gli dice ma che figo ma puoi farli diventare anche azzurri verdi gialli o di altri colori e lui ma non ti fanno paura perché mi dovrebbero far paura cioè comunque dai anche se sei brutto sotto la maschera va bene lo stesso e lui piglia si leva la maschera e sotto è bellissimo anche perché è lo stesso attore che faceva il padre nella parte iniziale lei lo guarda così non sei brutto sei fantastico sei strafigo sei stragnocco perché porti la maschera e lui gli fa vedere che qua ha un leggero segno del veleno demoniaco lui è abbastanza insicuro e sente che c'è qualcosa che non va che non va nel senso che non può essere una ragazza umana normale perché tutte le ragazze finora che aveva visto perché la zia acquistata gli mandava mogli su mogli nella speranza che si sposasse appena gli aveva fatto gli occhi rossi erano scappate via come delle lipe urlando invece lei ci sballava su ste cose e quindi comincia già ad avere qualche lieve sospetto che ci sia qualcosa che non quadra in lei comunque lui all'inizio vuole spaventarla facendo finta di volerla portare a letto e lei rimane un attimo scioccata però mentre lui sta ancora facendo la scenetta per spaventarla visto che siamo sposati dobbiamo andare a letto e lei è così in imbarazzo gli viene un attacco forte demoniaco nel quale gli esce una sorta di sigillo sulla fronte si illumina e lui si sente male diventa quasi inferocito ma per pochissimo poi comincia ad avere un caldo tremendo e lei gli dice ti faccio un massaggio alle tempie perché io ho la pelle molto più fredda rispetto al normale magari ti sfiammo e in effetti lei gli fa il massaggio con le mani con una certa temperatura bassa che tiene il suo corpo essendo una fata del cielo e lui piano piano si rinfresca si calma e si addormenta la mattina dopo si sveglia lui e non capisce la prima volta che gli succede che qualcuno riesca a calmare una di queste sue crisi ma lui perché ha le crisi quando il padre è morto dando tutta la sua energia spirituale a lui stesso per riuscire a farlo nascere e alla moglie umana poco prima di morire aveva fatto uscire dal suo corpo la sua essenza imperiale il potere demoniaco imperiale della tribù dei demoni e lo aveva rinchiuso in una perla dell'anima una perla rossa legandola poi in un sacchettino e dandola in custodia al cognato seppur non si potessero vedere il fratello della principessa il cognato non poteva vedere l'imperatore demone ma non per qualche motivo semplicemente perché sapeva che la sorella stava morendo per dare alla luce il figlio suo e quindi lo incolpava di questo lo incolpava del fatto che aveva messo incinta sua sorella sapendo che sarebbe morte essendo terrestre terrena e questo l'imperatore terrestre l'imperatore terrena non gli è mai andata giù dice dicevi che l'amavi tanto ma poi gli hai fatto rischiare la vita e l'hai fatta morire mentre invece non sapeva che erano in accordo perché era stata proprio la principessa a desiderare a tutti i costi un figlio dall'imperatore demone ma erano tutti ricordi sparsi del passato lo zio l'imperatore terrestre zio di wii u lo aveva sempre lo ha accolto lo ha cresciuto da quando è nato gli faceva portare anche da bambino questa maschera perché aveva questi tre segni gli ha custodito la perla dell'anima come gli aveva chiesto il cognato a prescindere dalla sua antipatia per il cognato ma non non era mai stato né affettuoso ma neanche nemico del nipote lo tenevano però sempre all'interno della residenza senza farlo uscire in giro questo perché da bambino non riusciva a gestire bene i suoi attacchi di rabbia e spesso gli venivano gli occhi rossi a volte fiammeggiava dalle mani e l'imperatore non voleva rischiare che facesse qualche cavolata magari fuori per rabbia o cosa e quindi lo teneva diciamo chiuso non chiuso però all'interno del palazzo senza farlo uscire fuori era cresciuto con l'imperatore con l'imperatrice la moglie dell'imperatore che è una imperatrice cicciotta abbastanza snob e lei invece lo trattava piuttosto male quando era bambino lo chiamava mostro mi dice tu sei un mostro sei solo mezzo umano stai lontano dai miei figli l'imperatrice aveva avuto due figli ma il più grande era poi morto in un incidente che non è mai stato chiarito bene e l'imperatrice in qualche modo pensava che forse forse era colpa del nipote del marito ma non aveva prove certe poi aveva un altro figlio un po' più piccolo che però era cresciuto col cugino e in effetti ci andava d'accordissimo e gli assomigliava pure tanto come aspetto ma loro erano cresciuti insieme come fratelli a prescindere che l'imperatrice non amasse questo nipote acquistato invece il cugino era affezionatissimo al cugino che fosse mezzo demone o non mezzo demone non gliene fregava niente parlano diverse volte Wu Yu e Chu Chu lei prova anche a fargli trovare qualche moglie e lui si arrabbia quando lei a un certo punto gli propone varie donne tanto che gli dice ma io ho sposato te perché adesso mi vuoi buttare tra le braccia di qualcun'altra e lei gli dice ma perché io pensavo che volessi un'altra moglie e lui gli dice che lui si è già innamorato ma si è innamorato di lei e lei ci rimane flashata perché non sa cosa rispondere lei in teoria non dovrebbe rimanere lì con lui lei dovrebbe trovare una moglie di cui lui si innamora visto che non era capace di amare e poi tornare al suo lavoro nei cieli e invece lui gli dice che si è innamorato di lei poi la prende la bacia una cosa e l'altra insomma anche lei capisce di essere innamorata di lui e infatti dice per questo il dio dell'amore si incavolerà a bestia ma non ci posso fare niente al cuore non si comanda cambia scenario e c'è il cattivo di turno un principe demone dell'antica stirpe anche piuttosto anzianotte bruttarello vuole il trono perché in quanto parente del vecchio imperatore demone sostiene che il figlio non sia degno di diventare l'imperatore dei demoni uno perché è mezzo umano quindi un mezzo sangue e due perché comunque non sa utilizzare non riesce a fare magie non è capace di utilizzare i poteri demoniaci sembrerebbe averceli bloccati questo voglio quindi da anni il principe dei demoni cerca di usurpare il trono e diventare lui l'imperatore ma i demoni non lo vogliono e stanno aspettando che wu yu spacchi il sigillo e riesca finalmente a utilizzare il potere demoniaco imperiale perché erano rimasti fedeli al vecchio imperatore quindi al padre di wu yu questo principe demone è un idiota se ce n'è uno dimostra una sessantina d'anni ma porta le due trecce qua ai lati grigie è cicciotto piccolo coi baffi e balbetta non è capace a parlare normale brato come una foca c'ha un servitore demone che non riesce neanche a trasformarsi del tutto in umano in effetti tutte le volte si trasforma in umano ma c'ha una mano che gli resta sempre animalesca e se la deve nascondere a cui tutti gli dicono quanto sei brutto e lui si offende dicendo che non capiscono la vera bellezza ma anche il suo capo il principe demone tutte le volte gli dice che è un cesso a pedali che è brutto che è scemo e lo prende pure a calci comunque fa di tutto per cercare di distruggere Wu Yu e vuole trovare la perla dell'anima perché sa che il padre di Wu Yu aveva racchiuso il suo potere demoniaco all'interno di una perla dell'anima era l'unico modo per rinchiudere un potere così grosso come quello dell'imperatore dei demoni lui vuole impossessarsi della perla dell'anima per diventare a tutti gli effetti il vero imperatore incontrerà Wu Yu in giro per strada con Chuchu lo attaccherà attraverso il suo scagnozzo qualcosa brutto con la mano animalesca ma al controllo con le energie demonie che il cosetto brutto si rende conto che non ha Wu Yu la perla e quindi devono trovare moda e maniera per cercarla intanto il cugino di Wu Yu il figlio dell'imperatore dell'imperatrice si è innamorato già da anni della guardia del corpo di Wu Yu di cui è anche molto amico come una sorella per lui e anche a lei attira il principe ereditario ma a causa dello scompenso di di estrazione sociale non si è mai fatta vedere inoltre il principe il cugino di Wu Yu è uno molto fine una volta passa un uccellino gli caga su una spalla ancora un po' sviene e comincia a imprecare cosa ho fatto di male agli dèi che mi odiano così tanto e Chuchula guarda è soltanto una cacata di un uccello non è che te devi così meno drammatizzare la situazione perché è molto poetico lui ma molto fine e raffinato mentre invece la guardia del corpo che è un classico in questi drammi di Wu Yu è una ragazza che però segue le armi fa arti marziali è masculina e quando l'imperatrice lo viene a sapere del figlio che si era innamorato della guardia del corpo del nipote gli escono i fumasci dalle orecchie dai capelli e dai buchi del naso e vuole dividere il figlio da questa alla fine da questa serva perché poi alla fine era una serva ma mentre lei sta ancora litigando col figlio e cerca di portarlo via da quella ragazza che fa la guardia del corpo Ciu Ciu è andata a parlare con l'imperatore è andata a parlare con l'imperatore perché l'imperatore aveva sgridato in malo modo Wu Yu perché era uscito da palazzo insieme a Ciu Ciu e l'imperatore invece non voleva che uscisse perché aveva paura che si creessero dei danni che ci fossero dei rischi essendo che lui era mezzo demone e in qualche modo lo trattava con freddezza quando era cresciuto allora Ciu Ciu va dallo zio dallo zio di Wu Yu dall'imperatore e gli dice so che sto rischiando di perdere la testa se mi volete condannare a morte fate pure ma dal mio punto di vista dovreste andare a chiedere scusa a vostro nipote perché l'avete trattato ingiustamente allora l'imperatore subito sul momento si inalbera poi si calma e lei continua a dirgli che comunque Wu Yu è un bravo ragazzo ed è anche affezionato allo zio però si sente trattato male da piccolo lo hanno sempre chiamato mostro in quel palazzo soprattutto la moglie dello zio e si sente escluso mentre invece dovremmo essere tutti una famiglia insomma l'imperatore comprende le parole di Chuchu decide di andare dal nipote e si porta dietro il sacchettino che all'interno contiene la perla dell'anima va dal nipote e gli dice io sono venuto qua per chiederti scusa il nipote lo guarda un attimo perché non ci crede che l'imperatore si abbassi a chiedere scusa a lui e invece lui gli spiega dice io semplicemente ho avuto tanto in odio tuo padre perché davo la colpa a lui della morte di mia sorella e tu crescendo sei diventato totalmente uguale nei lineamenti a lui che ogni volta che ti vedevo mi veniva in mente il mio cognato e mi saliva nei cinque minuti quindi preferivo staccare andarmene però non ti odio tu sei mio nipote t'ho cresciuto da quando eri piccolo e intanto c'era l'imperatrice che era tutta infervorata perché il figlio voleva sposare la la guardia del corpo del del cugino allora va lì impettita la cicciotta e gli dice fai qualcosa perché nostro figlio è l'erede al trono e invece vuole sposare una donna senza senza nessun titolo l'imperatore si gira ripensa al fatto che aveva tanto combattuto per non far sposare sua sorella con l'imperatore demone ma poi alla fine invece si erano sposati lo stesso e anzi e tutto quello che era successo era successo poi allontanata dal regno e tutto proprio perché aveva in parte come litigato quasi col fratello non vuole ripetere l'esperienza e quindi guarda il figlio e gli dice oh che bello allora ci avremo finalmente un matrimonio al palazzo e l'imperatrice come non ti arrabbi ma figurati se hai innamorato lui va bene tutto e tu stai zitta e l'imperatrice vabbè l'imperatrice se ne va va nelle sue stanze perché l'imperatore la mette in punizione per un mese e decide di far organizzare poi il matrimonio per il figlio con quella che ama appunto nel frattempo organizzano anche un matrimonio vero e proprio per Wu Yu che ormai ha deciso di sposare Chuchu Chuchu ormai è innamorata ha deciso che sposerà Wu Yu non tornerà a fare la sensale e buonanotte al secchio pace pensava di avere una carriera diversa invece no ma tutto sommato si fa due conti dice lui è un mezzo demone quindi comunque potrebbe essere immortale io sono una fata quindi comunque sono immortale staremo insieme tutta l'eternità e chi se ne frega ma arriva di nuovo il principe dei demoni che cerca ancora di futtiarsi la perla che nel frattempo lo zio aveva dato al nipote spiegandogli che erano i poteri demoniaci dell'impero dei demoni datigli proprio dal cognato dall'imperatore da dargli a lui quando sarebbe stato adulto lui però sa i rischi che corre con i poteri del padre perché il suo corpo non è del tutto demoniaco e lui peraltro non è capace a gestire i poteri demoniaci quindi sa di rischiare grosso se incamera la perla dentro di sé ma la perla è anche un protettore chi porta in tasca in mano la perla non può essere colpito da attacchi magici quindi decide di darla a Chuchu dicendole di tenerla chiusa e di non perderla mai Chuchu la mette in tasca la tiene lei ma lei non sa cos'è arriva il principe dei demoni farà un po' di casino tratterà sempre più male il suo servo brutto e si impossesserà dell'imperatrice entrerà dentro l'imperatrice per poterla possedere e poter fare in modo di trovare la perla e di distruggere definitivamente Wuyu l'imperatrice o meglio il principe demone con l'aspetto dell'imperatrice va nella camera di Chuchu mentre il suo assistente brutto distrae le guardie il cugino stava facendo dei giri di ronda intorno al palazzo per proteggere Chuchu visto che Wuyu era dovuto partire con la sua guardia del corpo quindi con la moglie del cugino per andare a parlare proprio all'assemblea dei demoni e spiegare che stava acquistando i poteri del padre e quindi sarebbe potuto salire al trono come ufficiale imperatore dei demoni ma questo attacco a lui gli arriva che Chuchu è in pericolo attraverso la telepatia e quindi molla la strada molla l'assemblea dei demoni molla tutti e torna subito indietro combatterà col principe demone e per cercare di sconfiggerlo in camere in camere assorbirà la perla demoniaca sul momento batterà il principe dei demoni poi tra l'altro prendono anche in giro facendo fesso l'assistente brutto che crede che il suo principale che il suo capo lo disprezzi perché Chuchu lo convince che lo tratta sempre male quello è un cretino ci casca e quindi fa cascare nella trappola anche il suo capo comunque combattono e Wu avendo adesso il pieno controllo dei poteri più tutta l'energia demoniaca del padre in sé e il padre era un imperatore demone con i contro bip lo sconfige lo sconfige ma c'è sentore che quello che ha sconfitto non era il vero principe dei demoni ma soltanto uno dei suoi doppelganger ma poi non si sa più niente riguardo a questo l'imperatrice che nel frattempo il principe dei demoni era uscito dal suo corpo è svenuta per il contraccolpo della possessione e poi della spossessione del demone ma a un certo punto finita la battaglia il servo del principe demone è scappato Wu si sente male con l'assa a terra sviene gli vengono le labbra bianche e viene portato immediatamente a letto la sua assistente guardia del corpo che si intende anche di medicina e altro lo visita loro hanno l'abitudine di visitare sentendo il battito cardiaco e via dicendo e gli dice a Chu Chu che purtroppo Wu sta perdendo completamente le forze e sta andando incontro alla morte ma l'unico modo gli unici che possono avere una soluzione per poterlo salvare sono degli immortali quindi se fossero riusciti a catturare il principe demone magari avrebbero potuto costringerlo a curare Wu ma visto che non era lui ma era una sua egregora era un doppelganger non l'hanno catturato e Wu adesso non c'è modo di svegliarlo allora Chu Chu subito si dispera e cerca di mandargli energia fino quasi a svenire anche lei poi gli viene un'idea e dice ma aspetta un po' anche il mio capo è un immortale è il dio dell'amore vado a chiedere e a supplicare che salvi Wu lei va in cielo ma il suo capo è incavolato nero ti avevo detto che non dovevi innamorarti ti avevo detto che non dovevi usare la magia ti avevo detto e invece hai fatto tutto quello che io ti avevo detto di non fare e lei gli dice ci posso fare niente l'amore non si comanda lui gli dice c'è un solo modo per salvarlo perché il suo corpo essendo per metà umano non può reggere a quella potenza demoniaca quindi l'unico modo è trasferirgli una potenza pari al suo mezzo demoniaco in modo da equilibrare le energie e le vibrazioni interiori che ha lui visto che la perla non si può più togliere e l'unico modo dice è che ti sacrifichi il tuo potere tu quindi io levo il potere da te lo trasferisco a lui per bilanciare il suo organismo ma tu diventi una semplice comune mortale non sarai più un immortale non sarai più una fata non potrai più venire nel mondo dei cieli nel regno dei cieli e non potrai più avere contatti con gli altri immortali lei accetta dice non me ne frega niente piuttosto perdo tutto ma basta che lo salvate va bene tutto lei dice sei sicura sì io sono sicura vanno insieme a palazzo lei si sdraia vicino a wuyu lui il dio dell'amore ancora una volta dice sei sicura di quello che stai facendo e lei gli dice sì mi sono ricordata tutto di quando ero bambina e si vede una scena si vede wuyu bambino appunto come si era già visto in altre scene che è tutto solo su una pietra così con la sua maschera da un lato tutto arrabbiato e si vede il dio dell'amore che sta passando con dietro di lui una bambina piccolina tutta pettinata carina che vede questo bambino con la maschera da un lato e ci va vicino e gli dice perché sei così triste e lui gli dice mi odiano tutti mi chiamano mostro nessuno nessuno mi ama allora lei bambina gli aveva detto all'epoca aspetta che cresciamo e ti trovo io persone che ti ammeranno con tutto il cuore era per questo che il dio dell'amore l'aveva mandata giù per la promessa che lei aveva fatto da bambina essendo un immortale una promessa che faceva doveva assolutamente mantenerla e invece poi da adulta si era innamorata di lui insomma il dio dell'amore trasferisce il potere magico di Chiu Chiu in Uyuu lui si salva si risveglia scopre che lei ha rinunciato ai suoi poteri per salvarlo e lui gli dice io comunque adesso ho tutto il potere dell'imperatore e dei demoni quindi in qualunque momento in qualunque occasione o cosa posso difenderti in ogni modo senza problemi e lei gli dice a me mi basta stare con te non ci sono problemi non me ne frega niente dei poteri che avevo ci ho rinunciato volentieri e cioè pensare che per tanto tempo ho pensato che ti avrei trovato una moglie beh tutto sommato ho mantenuto la mia promessa anche se la moglie sono io e lui la guarda un po' e gli dice quale promessa allora lei gli ripete la frase di tanti anni prima gli dice ti prometto che troverò una persona che ti amerà con tutto il cuore con tutta se stessa e lui la guarda e gli dice eri tu e gli dice eh già cambia scena l'imperatrice la ciccia è frastornata si sta risvegliando dalla botta che ha preso dopo che il demone entra esci entra esci ha fatto un po' di casini in giro per il suo corpo il principe demone e l'imperatore è lì che gli dice ti sei ripresa come stai e lei non capisce è frastornata dice cosa mi è successo dice guarda uno dei demoni nemici di nostro nipote ti ha posseduta per cercare di fargli del male meno male che sia VU e sia Ciu Ciu si sono messi in accordo per cercare di farlo uscire ma salvandoti per salvarti senza distruggerti senza che rischiassi tu allora lei ci rimane un po' così dice ma io mi sono comportata come una merdaccia e invece loro mi hanno ancora salvato dice falli venire qua oppure portami da loro perché io mi voglio scusare di tutte le cattiverie che ho fatto soprattutto con VU ma il tempo che glielo chiede l'imperatore sta per girarsi arriva il figlio cugino di VU quello sposato con la guardia del coro e l'imperatore gli dice tua mamma è ancora un po' frastornata puoi andare a chiamare VU e Ciu Ciu che tua mamma vorrebbe parlargli e lui gli dice va bene vado a chiamarli va via torna quasi subito e gli dice loro se ne sono andati in che senso se ne sono andati si hanno lasciato questa lettera dove c'era scritto che loro se ne andavano via e non spiega altro della lettera l'imperatore la legge così e la chiude e il figlio gli dice cosa ti hanno scritto nella lettera e lui gli dice nulla semplicemente che andavano via cambia l'inquadratura e si vedono lei e lui per i prati che si prendono per mano e gli dice adesso dove andiamo dove vuoi adesso siamo liberi non abbiamo più nessun nessun legame nessuna chiusura nessun blocco nessun impegno verso nessuno siamo io e te te e io si riprendono per mano e finisce che si allontanano di spalle 50 minuti per raccontarlo ma sono 30 puntate ma da 5 minuti l'una quindi relativamente stretto facile da guardare bellissimo perché fa vedere proprio la situazione degli immortali quindi delle entità elevate che siano entità celesti che siano entità demoniache che siano entità di terra di elevati che hanno il loro carattere quindi c'è l'elevato brontolone c'è l'elevato buono c'è l'elevato stronzo c'è l'elevato nei demoni stessi il primo imperatore demone il padre di Wu Yu era un era un demone retto era un demone giusto con la sua tribù ma si è sacrificato per amore di una mortale bello come pochi tra l'altro quell'attore torno a sottolinearlo piccolino ma bello piccolino che ha vent'anni meno di me e lui molto malinconico molto nostalgico molto pseudo depresso all'inizio perché sempre è stato trattato male metà umano e metà demone anche lui uguale al padre identico a livello estetico dall'altra parte fanno vedere il principe demone che invece è un demone stronzo con un servitore che è un demone brutto ma veramente brutto con una manina monca animalesca quindi fa proprio capire a prescindere che è un film fantasy che non c'è quella che io continuo sempre a dire non c'è la standardizzazione della tipologia non c'è l'entità elevata l'immortale chiamiamolo come lo chiamano nei drama l'immortale di razza brutta e l'immortale di razza bella il dio dell'amore dei cieli è un vecchietto piccolo grasso e pelato l'imperatore demone dell'inizio atai paraflu è l'esatto opposto ma il principe demone è un cesso a pedali il suo servo è due cessi a pedali nonostante siano tutti della razza demoniaca oppure gli altri della razza celeste e questo è la base di ciò che io continuo a promulgare a prescindere che poi uno li chiami demoni angeli guardiani alla fine invece vedi in asia vengono chiamati immortali tutti perché anche la tribù poi è la tribù dei demoni la tribù delle fenici la tribù dei gufi la tribù dei falchi e ci sono mille mila tribù diverse delle chizzune dei tanuchi e di altri ma non c'è una distinzione di bello e brutto buono e cattivo c'è il tanuchi buono c'è il tanuchi stronzo c'è la chizzune buona c'è la chizzune cattiva c'è il demone buono c'è il demone cattivo c'è l'immortale dei cieli buono e c'è l'immortale dei cieli stronzo hanno una caratterialità soggettiva e questo delinea una mentalità spirituale aperta e non l'ottusità delle boiate occidentali come dicevo l'altra volta un'amica che peraltro si chiama amica su un gruppo che in una foto dice ma io vedo dei demoni in quella foto e io sotto gli ho scritto perdonami cosa ti fa dire che sono dei demoni hai mai visto un demone di persona lei mi dice no no ma io intendevo in base ai film eccetera ecco come il 90% della gente che si basa sui film vedete una cosa brutta deve essere un demone vedete uno bello biondo chiaro con la luce che appare dietro le spalle o peggio ancora quando vedete immagini con le aluce ho visto gli angioletti vedo un angelo perché ci vedete la luce gli angeli le ali non ce l'hanno e i demoni non sono brutti o meglio c'è il brutto e c'è il bello anche tra gli angeli c'è il brutto e c'è il bello peraltro certi angeli fanno impressione sono delle masse incolte tutte occhi che ruotano mezza all'aria enormi e sono angeli perché l'angelo non è il cherubino carino con l'arco e le freccia la eros le aluce e l'aureola quelli non ci sono se li sono inventati nel medioevo ma non sono mai esistiti quella è mera fantasia detto questo vi ricordo che qua sono tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più sotto tre o quattro delle invece mille mila librerie che tengono in vendita i miei libri ad oggi ancora sempre i soliti sette che comunque sette in due anni ne ho scritti abbiate venia perché mi arrivano messaggi da ogni dove perché non fai un libro anche sulle dimensioni perché non fai un libro anche sulla quantica perché non fai un libro acaaa non è così facile tirare fuori i libri sono già da guinness dei primati per averne fatti sette in due anni non ce la posso farcela comunque le di costele di sadaco risalutano io mi mangio un pasticcino e ciao ciao